Tutti sono sicuri nel mondo dell'efficienza del vaccino Sputnik V, già utilizzato in 70 paesi del mondo dove abitano più di 4 miliardi di persone e noi aspettiamo che nel futuro più prossimo storico la EMA e la IFA in ogni caso certificheranno il vaccino. L'auspicio dell'ambasciatore della Federazione Russo in Italia, Sergei Razov, ospite del terzo seminario italo-russo di Trieste, è molto chiaro, validare lo Sputnik anche in Europa come già avvenuto in 70 paesi del mondo. Oltre a sottolineare come l'assenza di Green Pass sia un elemento ostativo al lavoro diplomatico, Razov ha poi sottolineato come la mancata approvazione del vaccino russo nella UE abbia ripercussioni anche nel settore turistico. Trieste è un centro mondiale di turismo in Italia, voi vedete che qui ci sono pochi turisti russi, ci sono anche i cittadini russi che abitano qui ma i turisti sono pochi. Turismo come motivazione per attraversamento delle frontiere per i cittadini russi non è esistente, non è permesso. La mancanza del turismo russo secondo l'ambasciatore sta facendo perdere enormi somme di denaro anche al Friuli Venezia Giulia, ha spiegato nel corso dell'incontro sull'innovazione organizzato da Conoscere Eurasia. Un assist immediatamente raccolto tra gli altri dal presidente del porto d'Agostino che ha incanalato il tema sul fronte croceristico settore di punta per Trieste e Monfalcone. Trieste e Monfalcone negli ultimi mesi hanno visto il trasferimento di tantissime navi da crociera, tant'è che ieri guardavo i dati statistici di MSC crociere, Trieste e Monfalcone sono diventati il secondo polo di MSC crociere in Italia dopo Genova. Siamo allo stesso numero di Civitavecchia, non è così facile per un turista russo venire in Italia, però è chiaro che in un'ipotesi di crescita di questo flusso crociere integrato con il mondo portuale e aeroportuale, la relazione con la Russia e la relazione con il turismo russo penso che possa diventare fondamentale. Grazie a tutti!